no no è che voglio farti vedere una cosa posso aspetta aspetta ok vai ok aspetta volevo farti un ballettino che bello la tana del frerito ciao proderigno bella mi sentite ciao ciao piacere david ma vi sento bassi come mai mi senti ma bassi ciao mario non ti conosco tu fai il ballerino faccio tiktok ah fai tiktok e balli sì sì aspetta che metto le cuffie che non sento un cazzo mi sentite sì sì sono solo io ma adesso ciao mar ciao ciao se vuoi sordire anche con un balletto presentativo così almeno david capisce anche subito com'è la situazione prego la situazione prego prego dottore bello è come si chiama sta mossa tipo giramento del purè va una mossa molto casuale però c'è nel senso improvvisata ok innanzitutto ciao mauro benvenuto su su questo canale non so se conosci me o conosci david o se segui le live insomma come ti posizioni ma le live conosco la tua quella di david la conosco poco c'è nel senso non la seguo tanto però no ma va bene così va bene così ma c'è qualcosa che ti ricordi delle mie live non so qualche chicca particolare ma quella con con qualche tipa tipo vabbè tutte quindi praticamente hai guardato tutte le live tipo garavaglia o non mi ricordo bene garavaglia certo proprio lei senti omar innanzitutto benvenuto su questo canale perché ti ho voluto invitare perché sei un personaggio di tiktok molto molto particolare che merita merita sicuramente un attenzione merita sicuramente un attenzione come iniziata questa passione per il ballo mar facendo tiktok scoperto che con il ballo riuscivo a rappresentare meglio la mia persona e quindi iniziato a fare i balletti ok ma quanti anni hai tu amar 22 a ah sei un 2000 no sono un 99 però tra poco faccio 23 anni a 23 anni sembravi molto più piccolo eh lo so in tanti mi dicono che tipo c'ho 18 anni 17 sembri più giovane invece 23 anni veramente un piede nella bar praticamente sto già dall'altra bar allora in tanti mi dicono c'hai 18 anni non c'hai 22 anni e questa tua simpatia cioè nel senso in che modo tu sei simpatico c'è cosa secondo te la cosa che spicca di più della tua simpatia qualcosa che spicca della mia simpatia sicuramente sono i miei movimenti molto caso cioè non casuali però molto veloci e molto improvvisati c'è tutta c'è tutta una coreografia quando fai cioè senti una cosa come funziona il tiktok il tiktok funziona che in pratica sento il brano e come 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 posso fare il cerno senso come sento il brano in base al brano che sento faccio diversi movimenti in base al brano che 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 posso mettere con quello che faccio diciamo ok ok chiaro quindi io se ti faccio sentire una canzone tu lo analizzi e puoi elaborare poi un balletto giusto? Sì sì esatto. Ok dai facciamo un piccolo tentativo? Un piccolo esperimento. Con le cuffie riesco sì. Vai 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 adesso ti trattamento di video. Ci sei? Sì. Ok. Allora togliamo. Vai. Molto tranquilla. Ho paura della fame di una pistola che punta e come sta? Si sponta sopra un palmarie sopra un palmarie vorrei fare un attimo un altro un altro piccolo tentativo una canzone una un po' più spinta una un pochino più sì che si adatta meglio ok 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 ma abbiamo avuto una piccola dimostrazione che non fa mai male ma ecco le cose che deve avere una ragazza per colpirti oltre un macete ma non ce ne so dico ma un bel si può dire bel culo? Tu vuoi dire? Si un bel culo esatto poi cos'altro il viso deve essere bello ma tu guardi prima il culo e per Vito ti dici un attimo gira e poi guardi il Vito eh sì eh sì è normale poi? in senso per me è così poi il fisico deve essere non troppo magro e poi il culo non deve essere troppo esagerato ah tipo quelle col culo magari un pochino grosso non ti non ti piacciono? no troppo grosso no ok ok cioè tipo tipo come come quelle da palestrate proprio pompate no no certo quindi se non lo so Kim Kardashian ti dicesse facciamo sesso tu ovviamente no io rifiuto ah ok vabbè non mi piace eh giusto e invece il seno lo preferisci proprio soggettivamente? ma se non va bene anche piccolo ok ok qualche altra caratteristica cioè piccolo non troppo però piccolo va bene cioè a me piace ok chiaro chiaro David? si no quindi come curiosità mia no? come hai approcciato una delle tante ragazze? cioè chi hai detto? a parte gira deve farmi dire ma alcune tipo le ho proposto se potevano farmi un video assieme cioè le ho proposto se volevano fare un video assieme ma alcune non vogliono ah alcune invece vogliono però tipo sono cioè nel senso non le ho mai incontrate ancora cioè devo incontrarle ah quindi usi questa tecnica di fare qualcosa, fare un video assieme per poi rimorchiare? si si oppure anche un vocale tipo dove oppure tipo molto diretto oppure tipo un vocale di presentazione cioè nel senso mi presento e gli dico come stai oppure usciamo una sera così ci organizziamo e tutto cioè nella tua presentazione dici come stai? no sì beh come stai no però come va tutto così ok ok e cioè come stai no dipende alcune ho risposto anche come stai mi sono beccato proprio nulla ho capito può succedere la vita è piena di farfalle sì certo certo assolutamente ma sì tanto ce ne sono tante poi c'ho su tiktok ci sono tipo duemila commenti di tip e poi non mi vanno neanche a scrivere cioè se commentate il video andate a scrivervi cioè non è proprio una cosa uguale punto di vista ammirevole ammirevole devo dire no ma se commenti con i complimenti cazzo c'è nel senso vai anche a scrivere ma tipo complimenti di che tipo? ma non so tipo alcune proprio complimenti normali tipo sei bello oppure tipo ma classici tipo mi ha conquistata così però non so se sono serio o se non sono ironici quello non so però secondo me non sono quanti ironici beh scrivegli te scrivegli te no? cioè ti vedi tu vai là sì ma su tiktok non puoi andare a scrivere o dici te eh vabbè per dire devi beccare l'instagram devi beccare l'instagram e poi lei puoi scrivere ah vabbè quello sì sì no basta che clicchi sul profilo e gli scrivi in privato no? ah su instagram sì adesso Rubino ti metto un attimo fuori un secondo che voglio un attimo fare questo piccosiparietto tu fai finta che io sia una ragazza che è appena conosciuta in discoteca ci troviamo fuori dalla discoteca a parlare e tu devi cercare di insomma far capire il tuo interesse approcciare e far capire il tuo interesse nei miei confronti sì far capire l'interesse io risponderò come se fossi lei vai ok buongiorno buonasera bella fanciulla sono qui che ti ho vista da lontano e mi piace il tuo viso mi piace il tuo corpo vorrei non so allora non sono non sono una non sono cioè una una forma di di formaggio cioè nel senso non cioè vabbè vabbè sì sì eh però io diciamo che vabbè no no ehm sì ehm comunque se vuoi ti offro qualcosa da bere andiamo a fare un piccolo aperitivo non so cosa bevi di solito tu? io sì ma bevo ma non troppe cose alcoliche eh ma scusa abbiamo appena ballato io vorrei bere qualcosa di alcolico ah beh sì per le ragazze sì per me è meglio di no ah quindi ci sono altre ragazze oltre me? no per per te sicuramente sì per altre ragazze meglio di cioè evitiamo perché sennò eh ma io qua sono io te lo sento alle altre ragazze scusami eh no ti devo offrire da bere giustamente ti porto a bere solo solamente te perché le altre meglio cioè sennò si scatena un casino meglio di no ma vabbè dai magari ma offri tu? sì offro io e poi andiamo a fare un balletto ci scateniamo in pista ti faccio vedere un po' di passetti che so fare poi ti scateni anche tu ma io sono più per ma io sono più per Netflix and chill allora non sei il mio tipo di ragazzo mi dispiace mi fa un culo e allora vado dalle altre tanto non è un problema ma scusami mi hai detto che ti piaceva il mio corpo la mia faccia eh ma se non sei il mio tipo ideale di ragazza non posso andare avanti io sono riuscito a essere frenzonato anche nei panni di una ragazza cioè c'ho un problema io ho un problema comunque ho letteralmente un cazzo di problema veramente cioè sbaglio qualcosa eh devi essere deve essere lei più più motivata nel senso avere atteggiamenti diversi ho capito adesso tra poco entrerà un approcci diverso nel senso cambiare un po' nel 2022 non puoi ancora avere Netflix and chill vabbè prime video and chill ma senti quali sono secondo te le ragazze più belle di tiktok Italia cioè quali sono le ragazze a cui dedicheresti un balletto eh diciamo quelle con pochi follower perché con pochi follower l'altro sono tutte brutte cioè quelle che ce ne hanno sono tutte brutte no perché diciamo quelle con pochi follower sono meno seguite e poi sono le più belle anche perché cioè portano solo bravo sì ma no anche perché portano solo la loro bellezza ma non portano un contenuto effettivo così capito è lui il re e altre bravo 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 ma se devi scegliere tipo tra Alessia Lanza e Emilio Paolini Alessia Lanza se devi scegliere tra Gaia Clerici e Alessia Lanza meglio Alessia Lanza tra Alessia Lanza se no anche se no tra Valentina se no anche Valentina Clerici tra Alessia Lanza e Valentina Clerici Valentina Clerici ah attenzione piccolo risvolto tra Valentina Clerici e eh Giulia Paglianiti Valentina Clerici quindi Valentina Clerici per l'ora è proprio al top del top diciamo beh al top del top no ce ne sono altre molto più belle però anche lei non è male ciao 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 non ci credo sei Valentina sono proprio io no come stai come ti chiami Omar Omar Falco molto bene sta guidando è vannabile bene piacere io bene sto tornando a casa sono stata in giro fino adesso però Simone mi metteva ansia il balletto Omar il balletto il balletto no no è che voglio farti vedere una cosa posso aspetta aspetta ok vai ok ok aspetta eh voglio farti un ballettino che bello ciao molto semplice figa ci sta sei molto bravo dovresti fare il tiktoker lo fai? sì sì lo faccio e come va? ma sì qualcosa ci lavoro anche ultimamente sì? sì poco però non full time però vabbè ci sta sempre meglio sì sì comunque sì comunque vedo molto i tuoi video su tiktok sì? sì anche cioè li vedo nei per te ti piacciono? sì sì bene mi fa piacere cosa oltre il tiktoker cosa fai? adesso lavoro tra poco e che lavoro fai? lavoro in un negozio di abbigliamento qui vicino a Biella ah ok bello di dove sei? Biella ah ok tu sei di Milano immagino sicuro sì di Milano sì sì mannaggia eh mannaggia mannaggia no vabbè ma non è distante ci vengo qualche sabato qualche sabato ci vengo io a Milano quindi ah così vi vi incontrate uscite per una cena sì sì si può fare no ventina ma anche ma anche qualcosa anche una serata cioè andiamo a ballare sì vieni a ballare con noi guarda se vieni a Milano se vieni a Milano ti scrivo su Instagram andiamo a ballare tutti insieme ok ok quello molto volentieri come me potrebbe essere divertente ma Valentina ma cosa cazzo stai facendo? sta guidando sta tornando a casa no non sto guidando ah no? guardi la strada per passione infatti c'è qualcosa davanti una luce che ti sta proprio rapendo guarda qua che trovo proprio parcheggio non tu ovviamente ma quello che guida perfetto guarda ma sta guidando lei sicuro è impossibile certo certo ma certo va bene grazie Valentina per essere passata a salutare è stato veramente breve ma molto intenso posso dire quindi parzialmente soddisfatto ma sì anche io sono soddisfatto eh immaginavo Omar l'ami sicuramente sicuramente vabbè vabbè cioè vabbè sì cioè insomma vabbè abbiamo perso Valentina è bloccato non mi vedi? poco poco ci sono tanti fps che galleggiano mettiamola così sarà la connessione oh strano eh sì strano va bene grazie Valentina ma cosa che c'hai il passato a tu? cazzo lo hai? cosa che c'hai? ho lo scouter ah è un occhiare? no è uno scouter è uno scouter ah figo me lo sono fatto impiantare nella tempia ah ok così posso vedere la tua aura va bene la mia aura? e com'è la mia aura? 8 8? vabbè una scala da 1 a 144 milioni eh però ah ok per dire ciao Valentina grazie Omar salutala pure ciao Valentina ci sentiamo ciao Valentina ciao ciao ciao